Ci mettiamo al centro e sarà naturalmente il sindaco Valerio Cedini e Vincenzi a proclamare il vincitore di questa meretta gold, la meretta del decennale. Vincere la meretta del decennio 2002-2011, quale miglior gruppo mascherato in assoluto? I 30 noi! Vincere la meretta del decennio 2002-2011, quale miglior gruppo mascherato in assoluto? E' un'attività di più che si è rinforzato. Il bambino è un'attività di più che si è rinforzato. La meretta del decennio 2002-2011, quale miglior gruppo mascherato in assoluto? Anche in questo caso ci sarà una dedica per questo premio? Sì, ovviamente oltre a dire che sono anche emozionato, è felice, penso anche a me, amici quali abbiamo fatto questa mascherata del 2004. Beh, questa dedica è una dedica molto speciale, una dedica ad un amico che non c'è più, un amico che ci è venuto a mancare alcuni mesi fa e che noi quest'anno a Carnevale abbiamo sentito la sua mancanza. Ciao gente! È stato senza dubbio un grande Carnevale. Senza dubbio.